buonasera a tutti e a tutte e ben ritrovati alla rubrica educhiamo questa sera parleremo di come trascorrere il tempo con i nostri figli durante le tanto attese vacanze di natale ecco se c'è qualcosa di bello di buono e di positivo che i nostri bambini si ricordano durante il periodo della pandemia e durante il lockdown è la nota positiva del tempo immenso ed enorme che hanno potuto passare con noi e che hanno potuto condividere con noi quindi mi sento proprio di consigliarvi prima di tutto di dare rilevanza al fattore tempo tempo quindi insieme ai figli come è un tempo che deve essere prima di tutto leggero un tempo dove si condividono hobby passioni e anche interessi possono essere culinari possono essere dedicati al gioco possono essere dedicati alla lettura e possono essere dedicati a dei piccoli sport purché si ritorni a dare consapevole importanza al fattore tempo quello che i nostri bambini bramano e quello che i nostri bambini desiderano più di ogni altra cosa è che come regalo di natale si torni a dare una grande importanza al tempo al tempo speso insieme al tempo speso con intenzionalità e ad un tempo che sia prima di tutto leggero spensierato divertente ecco con questa piccola nota e con questo piccolo momento di riflessione mi sento proprio di augurarvi un sereno tempo insieme ai vostri e ai nostri bambini più Grazie a tutti.